Coach Stefano Saia, arriva una brutta sconfitta casalinga per il Valle Soverato che cede 3-1 all'Entuolbia praticamente vanifica di fatto quella bella vittoria di domenica scorsa a Brescia un Soverato che era avanti 1-0, 16-10 poi però è cambiata totalmente la partita. Sì, tanto quello che è successo settimana scorsa è successo e non vanifica niente, i tre punti ci sono in classifica. Quello che è il mio ramarico è l'atteggiamento che abbiamo avuto in campo da partire dal secondo set in poi. Abbiamo giocato un primo set di ottima qualità impedendo a Olbia di sfruttare le sue possibilità e i suoi attaccanti che sapevamo che se si fossero esaltati avrebbero fatto la partita che poi hanno fatto. Abbiamo giocato il primo set con un buon piglio, nel secondo set invece siamo stati troppo timidi in attacco e troppo timidi in battuta e loro sono venute fuori, si sono caricate e noi non siamo riusciti a contrastare con Mura Difesa quella che è la loro qualità migliore, cioè due attaccanti di posto 4 molto potenti. L'impressione che si è avuta da lì fuori è che probabilmente il contraccolpo del secondo set perso quando si era avanti 16-10 ha pesato anche nel terzo set dove siamo stati sì in partita, in equilibrio però non siamo mai riusciti ad avere quel colpo di coda per mettere il muso avanti. Sì, non siamo stati in grado di riprendere la partita e di riprendere quella tensione agonistica che avevamo nel primo set. Questo è il ramarico più grande, è la lezione che dobbiamo imparare da questa partita e rimetterci subito al lavoro con umiltà in palestra da martedì pronte ad un'altra battaglia per settimana prossima. Non è accettabile una prestazione non tanto per risultato quanto per la mancanza di reazione come c'è stata questa sera. Questo non è accettabile. Poi il resto, il campo poi dice la sua e i tre punti di Olbia sono meritati perché noi non siamo stati in grado, soprattutto negli ultimi due set, di contrastare il loro attacco con un buon muro difesa. Possiamo dire che praticamente queste ultime due partite del Soverato rispecchiano un po' la stagione di questa squadra. Una stagione altalenante, una bella prestazione a Brescia, poi si viene in casa, si parte anche bene e poi ad un certo punto si cala di colpo anche a livello psicologico. Sì, ripeto, la fatica che facciamo è quella di riuscire a invertire l'inerzia di un set che magari parte e ci vede in svantaggio. Questa è la difficoltà che in questo momento e che stiamo dimostrando ormai di avere ed è il tema su cui dobbiamo lavorare in allenamento pretendendo da noi stessi, tutti quanti da noi stessi, qualcosa di più in allenamento. Con il tecnico dell'entuolbia Giuseppe Galli commentiamo questa bella ma soprattutto direi importante in chiave classifica vittoria dell'entuolbia qui a Soverato, 1-3 il punteggio finale pur essendo partiti in svantaggio di un set sul 16-10 del secondo siete stati comunque bravi a crederci e da lì probabilmente è cambiata la gara. Giusto, analisi corretta, siamo state brave e abbiamo cominciato a difendere perché nel primo set, merito della squadra avversaria, delle bocche da fuoco che ha soverato Mr. Stefano noi non siamo riusciti né a difendere né a murare quindi abbiamo subito una fase d'attacco importante della squadra avversaria abbiamo subito mi sembra il 63% d'attacco positivo e ho cercato di svegliare un po' le ragazze per cercare di difendere almeno quello che avevamo studiato e all'inizio del secondo set non c'era riuscito poi abbiamo cominciato a sbagliare le battute e invece da lì in poi ho dovuto alzare un po' la voce ho visto una squadra reattiva come domenica scorsa in casa e abbiamo cominciato a giocare a mettere in difficoltà l'ottima squadra di Soverato. Una squadra che ha dato l'impressione dall'esterno dopo la rimonte effettuata nel secondo set di approcciare in maniera diversa anche nel terzo e nel quarto ci ha messo anche molta intensità, molta grinta e determinazione, grandi difese e non si è mai disunita. Sì, io credo che la chiave sia sempre questa noi abbiamo recuperato Villani perché fino adesso in questi ultimi due mesi non avevamo questo terminale d'attacco importante quindi per noi è fondamentale poi abbiamo cominciato a difendere e quando difendiamo ovviamente c'è una squadra pericolosa perché poi in attacco comunque siamo in grado di dire la nostra e anche nelle situazioni di muro invece nella prima fase della partita questo non c'è riuscito devo ammettere merito della squadra avversaria però vedere le mie ragazze così insomma dà una bella soddisfazione. Mancano ancora otto giornate al termine della regular season però possiamo sicuramente dire che alla luce dei risultati maturati oggi in questa quinta giornata perché al di là del punto di Cisterna ieri ha perso Mondovì in casa, ha perso Caserta questi tre punti possiamo dire che potrebbero rappresentare una svolta per la stagione del Lentuolbi? Ma svolta no perché io mi aspetto la svolta dal punto di vista tecnico cioè adesso che abbiamo l'organico al completo mi aspetto che questa squadra continui a crescere come sta facendo e quindi ovviamente crescendo potremo fare più punti. Dico svolta no perché anche nella prima fase nel girone d'andata, nelle prime partite abbiamo fatto molto bene e poi c'è stata una flessione dovuta agli infortuni eccetera e quindi il momento decisivo topico saranno le prossime cinque gare credo di poter dire. Alla luce delle due sfide col Soverato avete vinto in casa 3-1 e dopo un girone vincete 3-1 qui al Palascoppa un suo giudizio personale su questo Soverato? A me il Soverato piace, c'è una giocatrice che ho cercato in tutti i modi di far venire anche a Olbia come Manfredini che ho allenato al Club Italia quindi mi piace tantissimo dico che Soverato è stata anche sfortunata perché comunque una giocatrice importante come Travaglini persa nel primo set, l'unico set vinto sicuramente ha inciso dal punto di vista forse più mentale che tecnico però non avere il capitano in campo cambia ha degli attaccanti importanti Karakash va sicuramente e fa il suo noi forse ci sono delle squadre con le quali una squadra gioca meno peggio noi giochiamo meno peggio per sfortunare il Soverato proprio con Soverato questa è un po' l'analisi comunque in bocca al lupo ha Soverato che mi sembra una squadra estremamente quotata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti